Sì, Ciccio, quindi partite di questo tipo nei giocati diversi, ti chiedo che sensazioni dà, che emozioni dà, che carica dà, che spinta dà vincere una partita come questa e in questo momento? Beh, è una vittoria strameritata, una vittoria cercata, voluta, una vittoria che fa bene alla squadra, a tutti e ai trifosi, perché i Reppi ce ne erano proprio tanto anche loro, anzi, vi ringraziamo perché sono venuti in massa qui a Firenze, una vittoria vicino a Fulci, una vittoria a Fulci, una vittoria, sì, la squadra sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto d'atteggiamento e questo la sottolinea, una squadra che ha voluto vincere questa partita, l'abbiamo dimostrato, è sempre soddisfatta di quello che abbiamo fatto. Raccontaci questo gol, anche poi come gesto tecnico che poi ha portato a lo stesso, come se sei reato, più in quanto la maglia dei Neppi? Beh, sicuramente questo gol per me ha tanto significato e tanto valore, perché a prescindere del 15esimo gol della maglia dell'Empoli, è un gol che ha sbloccato la partita, è un gol in derby, quindi ha un proprio valore, sono contento di quello che abbiamo fatto e soprattutto perché è un gol che volevo dedicare a mia figlia Sofia, che credo che tra tre minuti è il suo compleanno e le volevo dedicare a questo gol. Dedica speciale dunque, cosa dà il termine di consapevolezza di condizione guardando il domani, guardando il futuro, la tua prestazione, che poi non è la sua, insomma, e poi ha fatto altre buone partite, ma questo risulta qualcosa che aggiunge ai miei consapevoli che credo? Beh, io penso che nelle altre partite siamo stati anche un po' scontorati, vi ricordo soprattutto un ultimo ultimo di mese, l'episodio dove avevamo fatto la partita e noi meritavamo di vincere, invece stasera abbiamo racconto i tre punti che abbiamo visto ha meritato, questa partita ci deve dare fiducia, consapevolezza e voglia di stupire, perché è vero che non abbiamo fatto nulla nella strada ancora nulla, però questa squadra per me può crescere da passo. Sentiamo cosa significa per te la maglia azzurra, ti chiedo di dedicarvi pensieri al popolo azzurro, perché ovviamente c'è una soddisfazione, una gioia di loro. Sì, sapete tutti, io sono legatissimo a questa maglia, a questi colori, è ad Empoli, penso che i tifosi staranno ancora festeggiando perché se lo meritano, quando sono molti tanti su a questa legge, ci sono sempre vicini nel momento in cui è una lontà, infatti voglio avere un po' di rinforzare da parte di tutta la squadra e niente, sono contento perché alla fine è proprio bene intanto la vittoria, contenti. Per chiudere la strada è ancora lunga, bellissima, posso stare così qua davanti. Sì, ora è giusto che ci contiamo questa serata, ma da domani si riparte perché abbiamo una partita difficilissima, lo sappiamo, ma ormai sono tutte difficili da iniziere A, e noi dobbiamo essere bravi a continuare il lavoro che abbiamo fatto oggi, a far vedere che ci siamo, che non vogliamo, che sono usi in questa prima volta della strada.